L'Italia è pronta ed è il paese europeo con la maggiore soglia di attenzione, rassicura il ministro Roberto Speranza in conferenza stampa a Milano, per presentare l'ordinanza a doppia firma del ministro della salute e del presidente della regione Lombardia per contenere la possibile epidemia di coronavirus nell'area. Tra queste iniziative c'è chiaramente la sospensione in quell'area di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura esse siano, la sospensione delle attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione delle attività lavorative per le imprese della zona, anche in questo caso chiaramente noi favoriamo modalità di lavoro che possano evitare la connessione diretta tra le persone, quindi quella del telelavoro ad esempio, la sospensione delle attività ludiche e sportive e la sospensione anche delle attività educative e dell'infanzia. La protezione civile ha individuato insieme alle forze armate strutture dedicate a contenere l'emergenza dove ospitare i possibili contagiati. Intanto abbiamo individuato due strutture, una su Milano e una su Piacenza, per 150-180 persone. Il capo della task force ha anche annunciato l'avvio di un censimento per reperire altre strutture, comprese quelle alberghiere. Dunque lo sentivate, una decina di comuni... Grazie a tutti!